Ho incontrato il sindaco di Piombino, gli ho spiegato che è fermo il legittimo diritto di utilizzare tutti gli strumenti di tutela previsti dalla legge. C'è l'impegno del governo a non superare i tre anni nel mantenere il rigassificatore davanti alla costa di Piombino. Sono parole del ministro dell'ambiente, Pichetto Fratin, che ribadisce sulle pagine della nazione quanto i due rigassificatori, quello di Ravenna e quello di Piombino, servano subito all'Italia perché le famiglie e le imprese chiedono garanzie sulla sicurezza energetica e il governo, dice, ha il dovere di dare risposte. Intanto continuano i pattugliamenti di carabinieri e polizia sui cantieri Snam a ridosso del porto. Il comune di Piombino in questa settimana presenterà il ricorso contro il rigassificatore. Il sindaco Francesco Ferrari, intervenendo all'assemblea dei comitati No Gas, ha spiegato la posizione del comune. Non siamo contro rigassificatori ma contro questo progetto a Piombino, ha detto. Vogliamo che la magistratura si pronunci perché riteniamo che l'autorizzazione firmata dalla commissaria Eugiani abbia molti vizi sia nel merito che nella procedura. Ferrari non ha chiarito i dettagli del ricorso ma le possibilità ormai sono principalmente tre. Chiedere la sospensiva per bloccare i lavori di Snam, confidare nella discussione di merito oppure fare istanza di prelievo per accorciare i tempi del giudizio.